Che Dono Vastola pronto ad una nuova partenza, una nuova ripartenza a uno dei veterani. Tra l'altro hai anche una cosa che non so se va prettamente a tuo favore, almeno anagraficamente. Sei il più vecchietto, tra virgolette, di questa rosa. Sì, hai detto bene. Sono il più vecchietto, però in questo momento penso solo a far bene. Poi, come esperienza, magari ai giovani gli posso insegnare qualcosa. Speriamo anche su questo. Per inizio del campionato ci stiamo. Noi prepariamo questa settimana la Coppa Italia, Team Cup, che sarà un match importante per noi. E niente, andiamo avanti. Beh, sicuramente deve essere ancora completato, però siamo andati a Roccarazio per lavorare. E niente, in questo momento conosciamo il mister, quello che vuole. E niente, noi siamo a sua disposizione e poi qualsiasi giocatore che arriva lo mettiamo a disposizione nostra. Si prova. Il mister ci sta facendo provare il 3-5-2. Anche se ci dice pure, consideriamo anche un 4-3. E niente, poi sta a lui valutare questi moduli che possono servire durante il campionato. L'anno scorso ho poche presenze, però quando sei sceso in campo mi viene in mente la prestazione di Avellino e hai sempre dato il massimo. Quest'anno, a livello di obiettivi personali, che cosa ti poni? Beh, l'obiettivo è di far bene anche quest'anno. Qualsiasi momento che vengo chiamato, come ho fatto l'anno scorso, di dare il massimo. Con i nuovi arrivi, che tra l'altro tutti piccoli anagraficamente, 94, 93, insomma, rosa giovane, l'ossatura storica, come vi siete inseriti e come, ecco, il tuo ruolo anche all'interno dello spogliatoio. Vabbè, come tutti gli anni, via, tanti giovani a nostra disposizione, sperando che i giovani li mettiamo su quella strada giusta. E niente, che poi dopo anche loro ci devono dare una mano a noi. Si è giocato la settimana scorsa con la sera in giallo, mi ha fatto una buona impressione. Si è perso pure, però alla fine un amichevole per noi a volte il risultato in quel momento non conta. Però l'importante è stare sempre concentrati, qualsiasi amichevole, perché se no si fanno brutte figure. Non me l'aspettavo, ma io vedo la formazione dell'Alessandria. Se vai a vedere i nomi, dici, allora, se ha vinto l'Alessandria, vuol dire che è una buona squadra, una buona rosa, sicuramente. Noi stiamo qui a disposizione, questa settimana lavoriamo solo per quello. Arriva l'Alessandria, sarà una categoria in meno, però penso che anche loro vogliono fare bella figura con una squadra di serie B. E niente, noi ce la mettiamo tutte.